Musica Ciao Eiu Allora, non c'è niente da dire cioè non lo so in questo video che senso ha però dovevo fare una prova volevo fare una prova con la mia fotocamera Nuba che è cambiato tutto il fatto perché adesso non faccio più i video col cellulare ma ho preso una cosa un po' meglio così in teoria dovreste vedermi molto meglio la qualità dell'immagine è più schiziosa e più carina e siamo tutti più contenti e quindi adesso non farò più i video col cellulare in teoria dovreste sentirmi meglio, vedermi meglio e tu ti resta appresso quindi da oggi in poi, come già vi avevo accennato in passato i video saranno fatti a 1080 però a 60 frame al secondo e quindi vi vedrete molto molto più fluido molto più meglio diciamo più meglio, mi piace più meglio che vuoi e così, non so che cosa che poi cosa vi farò vedere, quali saranno i prossimi video non lo so però certo è che mi vedrete molto molto meglio tra l'altro posso fare anche una cosa simpatica un'altra, un'altra ghiata ecco, tipo così e dovreste tutto così sì e dovreste vedere una bella profondità di campo schiziosa non lo so se poi applicherò comunque il formato quello là che metto io tipo cinema quello lungo forse qua no perché schiziosa sta cosa che che cos'è? che significa? così vabbè e niente questo è un video proprio inutile completamente che però sì è un video unico non serve assolutamente a niente però c'è il suo perché perché dovevo provare è arrivata oggi e dovevo provare questo è tutto e l'illuminazione fa schifo come al solito e spero che poi aggiusto un po' la stupida illuminazione tra l'altro devo anche stare attento perché c'è un è questa monata cosa e mi sono attrezzato perché c'è un limite alla registrazione per cui registrare 30 minuti alla volta e mi devo ricordare che praticamente devo spegnere e riaccendere ogni mezz'ora e ogni mezzo facevi e stando certi video mi hanno rotto le valle in eterno perché erano troppo lunghi e poi anche wifi quindi praticamente non devo non devo attaccare il coso per trasferire quindi è tutta una cosa un sacco bella e posso cambiare gli obiettivi posso vedere i filtri cosa che non farò in grande perché non ha nessun senso però posso è una cosa che posso fare e mi piace mi piace tanto mi piace questa cosa bella poi c'è la la batteria è eterna vabbè ma poi magari vi faccio anche una recensione che poi farò la recensione su quella chiaramente la devo fare facendo i video col cellulare ovviamente perché non ho alternativa e penso che questa adesso la rialargo per sfizio e questa è proprio grande è troppo grande così ecco così dovrebbe andare bene e c'è una cosa sfiziosissima che è praticamente c'è un quadrato sulla mia faccia che io mi sposto e mi segue perché tiene sempre a fuoco la mia faccia una cosa proprio tipo Star Trek sai che dico e mi basta mi smetto di tagliarvi perché ho già chiacchierato inutilmente abbastanza in effetti a tempo mi raccomando iscrivetevi al mio canale che è importante io sono anche su Facebook e su Twitter mi potete seguire anche là domani in particolare sono in giro quindi sicuramente pubblicherò qualcosa ultimamente proprio per il fatto che c'è ho scoperto l'esistenza del wifi perché io sto ancora con le con le valvole praticamente quindi ho scoperto che entrambe le mie fotocamere hanno il wifi e quindi praticamente le foto che sto pubblicando su Instagram le faccio con la fotocamera e quindi sono sostanzialmente più belle adesso le farò con questa o con l'altra non lo so insomma così come mi trovo come mi va per cui per stasera è tutto ciao a you ho scoperto